Francesco gode in istituto di un stima superlativa. Non solo in istituto. Grazie mille, questa volta me la sono cavato solo con la prima, quindi diapositiva potrei anche. Abbiamo una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi presso marchi o prodotti aziendali. Per quanto riguarda l'argomento della nostra relazione è verta alcune considerazioni sull'applicazione dei lenti a contatto gas permeabili corneali in caso di keratocono. Se prendiamo il panorama delle diverse possibilità che abbiamo a disposizione quando parliamo di lenti a struttura rigida abbiamo molte opzioni. Possiamo parlare e utilizzare lenti a contatto corneali e nelle diverse possibilità che abbiamo a disposizione in quest'ambito, per esempio soluzioni simmetriche, soluzioni asimmetriche, la modalità piggyback e lenti a contatto ibride. Possiamo valerci anche di altre soluzioni, sempre rimanendo nell'ambito delle lenti a contatto a struttura rigida, come lenti sclerocorneali e lenti sclerali. Nel momento in cui la correzione ottica necessita dell'applicazione di una lente a contatto l'obiettivo principale è quello di raggiungere un'acuità visiva soddisfacente per il paziente. Quando parliamo però di lenti a contatto dobbiamo anche considerare i rischi correlati all'applicazione e nel momento in cui parliamo di lenti di questo tipo, lenti corneali, uno dei più problematici di rischio è proprio quello di ordine meccanico. Certo che le caratteristiche finali che caratterizzeranno la superficie interna della lente a contatto passano attraverso la conoscenza della morfologia corneale, dove lo studio della topografia ci permette di ottenere importanti informazioni sulla soluzione finale. Per esempio, se guardiamo la possibilità di elaborazione con i topografi corneali che abbiamo, la mappa di altimetria, la mappa di forma, ci permette di raggiungere una consapevolezza maggiore della forma della superficie corneale. Certo che il risultato finale dipende dal giudizio del quadro fluoroscopico che il professionista dà della lente a contatto applicata, all'interno del quale dobbiamo cercare di evitare zone di forte sollecitazione sull'apice dell'ectasia e contemporaneamente dobbiamo evitare zone di forte sollevamento della lente a contatto dalla superficie corneale. Al tempo stesso però dobbiamo anche evitare zone di forte contatto periferico sempre per scongiurare problematiche di ordine meccanico. Per quanto riguarda quindi le caratteristiche finali che possono interessare alla geometria interna della lente a contatto, possiamo avvalerci di diverse possibilità di personalizzare la lente in funzione del caso trattato. Per esempio, quando andiamo a ricorrere di geometrie simmetriche, possiamo avvalerci di diverse possibilità. Per esempio della zona ottica torica, di lenti a flangi toriche, oppure della geometria inversa. Quando però il caso lo richiede, possiamo aumentare il grado di personalizzazione della lente a contatto adottando geometrie asimmetriche. Certo che la costruzione asimmetrica di una lente a contatto diventa più complessa. Per questa ragione, affinché il progetto di una lente di questo tipo venga realizzato, è indispensabile che la fase costruttiva sia affidabile e ripetibile. Oggi questo è possibile attraverso una particolare oscillazione dell'utensile durante la fase di costruzione della lente a contatto. Prendiamo un caso di keratocono, nel quale abbiamo applicato una lente a contatto gas permeabile corneale asimmetrica. Questa è la topografia di forma della superficie corneale del caso trattato. Se andiamo a vedere un'analisi altimetrica mediante una mappa di elevazione anteriore, diventa possibile vedere che i cambi significativi di altimetria vengono localizzati nel quadrante inferiore. Se guardiamo la simulazione di una lente a contatto simmetrica, in questo caso coassiale, progettata appositamente per keratocono, diventa possibile evidenziare che sarà difficile avere un quadro fluoroscopico simmetrico con una soluzione di tipo simmetrica. Se guardiamo il calcolo della clearance lungo il meridiano orizzontale, è possibile vedere che tutto sommato, in questo caso, il quadro fluoroscopico è uniforme e il quadrante tempiale e nasale sono abbastanza simmetrici fra di loro. Il problema si pone nel momento in cui osserviamo quello che accade lungo il meridiano verticale, poiché c'è innanzitutto una differenza significativa con quello che accadeva nel meridiano orizzontale e soprattutto il quadrante superiore e inferiore del quadro fluoroscopico hanno un comportamento asimmetrico. Se vediamo il quadro fluoroscopico della lente a contatto applicata, vista in lampada fessura, ci accorgiamo che tutto sommato il comportamento è abbastanza simile, all'interno del quale possiamo evidenziare alcuni punti a nostro favore nell'ambito dell'applicazione, come per esempio il sollevamento da parte della lente a contatto nella zona dell'apice dell'ectasia, però contemporaneamente abbiamo nel quadrante inferiore localizzato un forte sollevamento da parte della lente a contatto che influenzerà anche la posizione finale della lente, che in questo caso si decentra verso l'alto, presa dalla palpebra superiore. Se guardiamo le caratteristiche dimensionali della lente a contatto, qui abbiamo riportato del design simmetrico che abbiamo utilizzato, le diverse ampiezze, l'ampiezza della zona ottica, delle componenti periferiche, e se andiamo a vedere quello che ci preme a riportare in questa immagine è che il quadrante superiore, inferiore, tempiale, nasale della lente a contatto è simmetrico. Tuttavia, quando viene applicato sul corno di questo tipo è possibile però che il quadro fluoroscopico sia fortemente asimmetrico. Quindi se andiamo a vedere, cercando di analizzare le considerazioni che abbiamo fatto del quadro fluoroscopico, diventa possibile evidenziare alcuni aspetti che potrebbero diventare critichi nell'ambito dell'applicazione. Per esempio, il posizionamento della lente a contatto potrà influenzare sensibilmente la stabilità e l'acuità visiva. Potremmo avere delle difficoltà, visto la posizione della lente e l'allineamento con la superficie corneale di tollerabilità della lente a contatto e questi aspetti potrebbero seriamente influenzare lo stato di integrità della superficie corneale con l'uso della lente a contatto. A questo punto, proprio sulla base di queste motivazioni, abbiamo cercato di mantenerci sempre all'interno delle lente a contatto gas permeabili corneali, quindi non abbiamo voluto adottare delle alternative, ma abbiamo voluto lavorare in questa strada attraverso un design asimmetrico. Che cosa è stato fatto allora quindi partendo dalle caratteristiche della lente a contatto simmetrica che abbiamo messo all'inizio? Abbiamo mantenuto le stesse ampiezze, poiché le abbiamo ritenute ragionevoli, abbiamo mantenuto invariato il quadrante tempiale nasale della lente a contatto perché ci sembrava conforme con la superficie corneale, mentre invece abbiamo effettuato una modifica lungo il meridiano verticale, però in maniera diversa fra quadrante superiore e inferiore. Inferiormente, laddove c'erano punti più critici, abbiamo approntato le modifiche più significative, dove ogni componente periferica, in questo caso è stata variata di un millimetro, chiudendo, quindi stringendo il quadrante inferiore. Per quanto riguarda invece il quadrante superiore, ci sembrava che gli aspetti fossero meno critici, abbiamo applicato quindi modifiche meno significative, abbiamo comunque aumentato la curvatura di quel quadrante chiudendolo, cercando di allinearlo di più con la superficie corneale, ed ogni variazione approntata nelle diverse posizioni delle parti periferiche è stato di mezzo millimetro. Quindi in questo modo, modificando in maniera diversa il quadrante superiore da quello inferiore, abbiamo generato una geometria che è asimmetrica. Se andiamo a vedere il quadro fluoroscopico che abbiamo ottenuto con un design di questo tipo, abbiamo cercato di mantenere i punti buoni che avevamo nella lente simmetrica, quindi abbiamo cercato di mantenere il sollevamento da parte della lente a contatto dall'apice dell'ectasia, però abbiamo uniformato contemporaneamente anche il quadro fluoroscopico nel quadrante inferiore, che rimaneva l'aspetto più critico. Per quanto riguarda il quadrante superiore, allineandolo di più, ci ha permesso di ottimizzare anche il centraggio della lente a contatto, che si mantiene più centrata nei confronti dell'area popillare. Se andiamo a vedere allora le considerazioni fatte del quadro fluoroscopico, che è stato modificato in questo caso con la lente asimmetrica corneale, abbiamo quindi la possibilità di lavorare in determinate direzioni. Una migliore centratura della lente a contatto ci permetterà di avere un'acuità visiva più stabile, quindi una maggiore qualità della visione. Abbiamo cercato di allineare maggiormente la lente a contatto e questo ci potrà permettere di avere una migliore tollerabilità all'uso della lente e infine questi aspetti ci potrebbero aiutare a mantenere più integra lo stato della superficie corneale durante l'uso della lente. Andiamo verso le conclusioni attraverso il confronto tra la soluzione simmetrica e la soluzione asimmetrica. Che cosa possiamo dire? Che la soluzione asimmetrica necessita di una gestione più articolata dei parametri, quindi articola di più l'applicazione, quindi non può essere la prima opzione. La prima opzione è sempre utile partendo con una soluzione simmetrica e poi da lì vedremo che risultato otteniamo dal quadroforoscopico e nel momento in cui una soluzione simmetrica non raggiunge risultati sperati diventa possibile mantenere questa strada, quella delle lenti a contatto corneali, cercando di modificarla con design asimmetrici per ottenere un miglioramento del risultato finale. Vi ringraziamo per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie mille. Grazie.